Amiche ed amici di Akino Business Productions, benvenuti a questa serata dedicata a Fukio Mitsugi. Fukio Mitsugi è il designer di Bubble Bobble che ci ha lasciato nel 2008, nato nel 1960 e morto nel 2008. Questo ovviamente è spiacevole, ma in realtà noi ogni anno da quando esiste Akino Business Productions, celebriamo questo momento. Lì ci ha lasciato l'11 dicembre del 2008, quindi è il 9 dicembre, è il mercoledì, quindi la nostra serata classica di bromanza insieme con Fabio Chienobit, Vortolotti e me. Ma questa sera Fabio Chienobit e Vortolotti non c'è, quindi pensate a questo 2020 come estruggente, perché nella serata in cui si celebra Life, Love, Friendship e Happiness, i quattro grandi pilastri di Bubble Bobble, i quattro grandi pilastri di tantissima eccellenza del game design, purtroppo Fabio non c'è, quindi sarà una serata in cui voi, voi della chat, sarete gli amici, sarete gli unici amici che ho, per celebrare Fukio Mitsuji. Fukio Mitsuji, perché devo, c'è, adesso non è tutta questa roba, però Fukio Mitsuji è veramente un grandissimo, MTJ, avete scritto in basso, Bisboc per MTJ, perché MTJ è il soprannome con cui si firmava egli all'interno dei suoi giochi. Questa sera cosa faremo? Ma faremo delle cose un po' bizzarre, un saluto a tutti quanti, anzitutto, buonasera, vi celebro, brindo a voi con del Pelinkove. Ottimo, amaro, croato, buonissimo, perfetto, grazie, veramente è venuto molto bene, è venuto molto bene. Quindi, questa sera, come lo celebraremo? Ma guardando un po' di cose, un po' di cose che hanno a che fare con Fukio Mitsuji, guardando un po' di cose che hanno a che fare con Fukio Mitsuji e con la sua filosofia. A questo proposito, ho preparato una ventina di slide, in modo da fare una vera e propria lezione universitaria. E quello che sto dicendo non è una minchiata, perché in realtà questa è stata una lezione universitaria. Vedete, qual è questa? Questa. Non appare. Perché non appare? Non appare. Lezione non appare. Scusa, l'ho messa qua. Eh, allora, adesso mi appari, però mi fa questa strunza. Scusa, c'è un problema con la lezione universitaria. Vai! Appare a metà. Perché sì? No, questa non c'entra. Perché appare a metà? Scusa, eh, c'ho il problema. C'ho il solito problema. Ecco, adesso lo faccio uscire meglio. Ah, che devo fare? Devo fare una specie di misanabi. Ma allora, che schifezza, mamma mia, che roba. Che zozzeria. Vabbè, scusate, perdonate. Eccola qui. Bene. Vaffanculo. Scusami, Fukio Mitsugi. Perdo... Fukio Mitsugi. Perdonami, Fukio Mitsugi. Ecco. Quindi, qualche mese fa ho avuto modo di fare una... una università. Non ho fatto università. Ma scusate, è stata una giornata di lavorativa sdelenante, quindi... E tra l'altro, appunto, io faccio videogiochi di lavoro, quindi è particolarmente doppio il fatto di parlare di un game designer. Quindi, ehm... Fukio Mitsugi. Eh, innanzitutto pregherei, eh, Zambagni, di postare un link che porta l'immagine di Fukio Mitsugi. Questo mi sembrerebbe molto giusto, perché lei ha fatto una bellissima immagine di Fukio Mitsugi e sarebbe giusto condividerla. Allora, ehm... qualche mese fa ho fatto per una scuola di game design svedese, la Future Games, una lezione che in realtà si occupava anche di altri giochi, di quattro giochi, laddove gli altri erano Arkano e Lunar Lander, non mi ricordo uno e non mi ricordo due. Ehm... questa lezione aveva ovviamente le eccellenze di game design come... come focus. Come focus. E, eh... Bubble Bob è ovviamente la sequenza di slide, eh, secondaria. No, è la sequenza di slide più importante. Sono veramente bollitissimo, grazie, abbonamento per Funkmetaller, che si abbonano. Non si sentono i suoni delle notifiche, non lo so perché, ma forse io non li sento. Chi può dirlo? È un mondo difficile, vita intensa. Felicità, momenti, futuro incerto. Ehm... quindi, ehm... cosa... cosa ho fatto? Ho fatto questa lezione. Ho fatto questa lezione e in cui presentavo la game design bliss. Quindi io direi di cominciare per chiunque si fosse sintonizzato nel mondo dei fukio mitsuji solamente adesso. Giustamente Luke McQueen che aveva visto la lezione, quella lezione, proprio quella. Questa lezione cerca di spiegare sotto il cofano perché da un punto di vista di game design, Bubble Bob è così eccellente. Poi, per la prima volta, ve lo anticipo, eh... andremo anche sotto il cofano della mia versione di Bubble Bob che ho realizzato con il fondamentale eh... auspicio e audacio e a... a... a coadiu... aiuto di eh Aladar, che è l'altro autore di Bubble Bob Bubble Oscape. Ormai tanti anni fa, otto anni fa, abbiamo realizzato insieme questa... questa versione di Bubble Bob con cento livelli eh... diversi, più volte celebrata, molte volte celebrata, nella storia di Kinobillis Best Productions, Bubble Bob Oscape. Quindi andremo a vedere i tool con cui ho realizzato questa versione alternativa nel gioco da sala giochi di Bubble Bob. Ma prima partiamo con le basi. Bubble Bob. Perché Bubble Bob? È fico, mentre nel frattempo il ragù ottimo che ha fatto la mia signora padrona, mi sta tornando su agevolmente, ma questo non sarà un problema per Fukio Mitsugi. Ah, intanto persone bellissime adoratori, adoratori, celebratori di eh... di eh... di Fukio Mitsugi che citano a memoria uno dei codici segreti eh... che si usano nel gioco. Ma poi ne parleremo. Game Design Bliss. Yes. Bubble Bob. Guardate. Innanzitutto, per capire Bubble Bobble, e per capire l'essenza di Game Design di Bubble Bobble, ehm... bisogna andare un po' a ritroso, bisogna andare eh... sicuramente almeno fino a Joust. Joust è un gioco eh... che sembra apparentemente non avere molto a che fare con Bubble Bobble, ma in realtà è da dove parte tutto. Dove parte tutto. Joust è un gioco che eh... ha della meccanica a due step, della two steps mechanic, cioè la meccanica che costringe per eliminare un nemico prima a bloccarlo, immobilizzarlo, eh... renderlo innocuo e poi a colpirlo per effettivamente distruggerlo. Ehm... intanto giustamente eh... cliccate sul link che ha messo Jax perché vedrete il santino di Fukio Mitsugi realizzato da eh... Francesca Zambani. Se non funziona dovete iscrivervi al nostro Discord, potete farlo, sarà bellissimo, assolutamente. Ecco, Zambani ha messo un altro link ancora più più gestibile. Anzi, sai che faccio? Adesso c'è clicco sopra. Chissà che succede, oh! Stiamo a vedere. Ecco, guarda che figata! È apparso direttamente dentro la presentazione. Non è bellissima questa cosa. Blocca le notifiche. Caricare con una piena risoluzione. No, va bene così. Devo... lo fa... va bene, lo faccio. Carichiamolo con una piena risoluzione. Guardate dopo lo... 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 lo finestro, giusto? Perché così non è proprio giusto. Forse se faccio così lo vedete meglio. No. Chi lo sa? Sono un disastro oggi, Zambani, perdonami, ma guardate la bellezza del santino di... Sto facendo dei disastri terribili, scusate, ma oggi va così. Ho fatto un setup completamente demenziale. Cos'è sta roba che diventa piccola? Non lo so, ragazzi. Abbiate pietà, non funziona mai un cazzo in casa Vizboch. Fu che mizuji, fu che mizuji, fu che mizuji, fu che mizuji, bolla pro nobis. Guardate, cliccate voi, cliccate voi, se non vi esplode il cervello, fuori di vedere fu che diventa piccolissimo e fa... Cucu! E poi scende in basso. Fu che mizuji. Chissà che capperi... ah, io lo so, ah, io lo so. Guarda, se faccio così tutto si mette a posto e occhio. Tac, guardate, fu che mizuji. Mizuji. Così vedete anche i miei bookmark porn. Vabbè, questo è un altro discorso. Bolla pro nobis. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Adesso lo rimetto qua e torniamo. Tac. Quindi, quindi, quindi... Sì, potrei metterlo su OBS. Potrei anche sostituire la mia faccia con quella di Fukumitsu. Sarebbe sicuramente meglio visto l'andamento assolutamente zombificato della giornata. Jaust. Jaust perché? Perché jaust? Perché sei tu jaust? Adesso lo vediamo. Guardiamo guardare jaust. Magari funziona, va a sapere. Ma va a sapere se funziona. Proviamo. Proviamo un jaust qualsiasi. Vediamo che succede. Probabilmente non succede un cazzo. Sì, probabilmente se spengo la presentazione dietro si potrebbe vedere un jaust tutto storto. Tutto ma così, ragazzi. Cioè non stiamo adesso a fare... Guardate. Ah, bellissimo. Quasi uno stream serio. Vaghe roba. Eccolo qua. Daily Buzzels. Giochiamo a jaust. Jaust è un altro gioco che è pensato esplicitamente per due giocatori. Jaust, cioè un gioco cooperativo-competitivo. Un gioco in cui, come poi sapete benissimo in Bubble Bobble succede, ci si gioca in due per ottenere il massimo. Nel caso di Bubble Bobble addirittura per poter vedere i finali veri del gioco. Quindi non un murderous ending, ma un best ending. Jaust invece è semplicemente il fatto che si gioca o in uno o in due. E in ogni caso comunque non funziona il tasto per cominciare. Poi invece funziona. Eccoci qua. Quindi, chi conosce Bubble Bobble, chi conosce lo sa. La caratteristica in realtà tipica di jaust è quella legata al fatto che bisogna schiacciare per volare. Quindi, volando, si schiaccia. Inoltre, la caratteristica di jaust è ovviamente l'inerzia stronzissima. Quindi tutto quanto è molto inerziale. In qualche modo c'è del Lunar Lander in jaust. In questo gusto inerziale. Però, come vedete, quello per cui ci interessa jaust è il fatto di poter... Vi è qua? Vi è qua. Io sono quello giallo, se vi lo state chiedendo. Il fatto di poter andare in testa ai nemici... In testa ai nemici... Oh, la smetti di trollarmi. Tu mi tro... Tu mi tro... Tu mi stai trollando. Tic. Eccolo qua. Allora. Ora vedete che l'uccello se ne sta per i cazzi suoi. Giustamente. E quel piccolo ovetto è inerme e io posso colpirlo. Quindi, prima ho colpito il nemico. Dopodiché, il nemico, tra un po' si sveglierà. Il nemico si sveglierà e l'uccello andrà a prenderlo. E lui sarà contento, infatti, di essere preso dall'uccello. Attenzione all'opterodattilo che è sempre pericoloso. Benissimo. Maledetto opterodattilo che lo vuole uccidere. Ma io non mi faccio uccidere l'opterodattilo. Finisco lo schermo. Survival wave. Bravissimo. Quindi questo è Joust. Vedete, ma che c'entra? Beh, se non avete già intuito che ci sono delle meccaniche simili a Bubble Bobble in questo double step. E tac. E questo è lo step 1. All right. Quindi, detta questa... Torno alla mia prezza. Perché dopo Joust è fondamentale capire l'altro step che porta a Bubble Bobble. Buonasera a tutti, intanto. L'altro step è Mario Bros. Mario Bros è ancora più clamorosamente Bubble Bobblesco. Già per la sua giapponesità, già per il suo uso degli sprite 16x16 pixel. 32x32 pixel. Neanche 16x16 pixel. More or less. Less or more. Mario Bros è un altro gioco in cui si sente ancora di più la vibe di Bubble Bobble. Exante. Perché è un gioco del maggio 1983 che ho scritto. Siccome è una presentazione per dei giovani che non avevano mai visto il MAME, potete anche giocarlo su Nintendo Switch. Quindi, Mario Bros. Mario Bros. Sboronissimo. Vediamoci un salto di Mario Bros. Per chiunque per qualche ragione misteriosa nella propria vita non sappia, non abbiamo mai giocato a Mario Bros. Il gatto sul tubo ci sta ridando con solamente 1800. Cosa sta succedendo? Attenzione. Gatto sul tubo. Oh mio Dio. Bowel trouble. E Catalesi. La vendetta di Catalesi che colpisce durissimo. Grazie. Grazie Gatto sul tubo. Grazie a tutti voi. Benvenuti. Addirittura a persone che riscattano il messaggio per poter dire A BOWEL TROUBLE. Oh 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 oh. Guardate Kenobisboc, cioè Kenobit che rizza le orecchie appena vede 1888 persone che arrivano giustamente. Un grande BOWEL TROUBLE a tutti voi, alle vostre lasagne. Sono emozionato di avere niente meno che il gatto, quindi il Catalesi, il grande rivale di Monello qui con noi. Un'emozione fortissima che mi spinge inevitabilmente a spiegare innanzitutto che cosa sto facendo un attimo. Perché sono qui? Perché sto per giocare a Mario Bros. quando in realtà la serata è dedicata all'autore di BOWEL BOWEL? Perché? Vabbè, adesso non posso spiegarlo. È troppo complicato. Sono agitatissimo, grazie. Ma lo scopo di tutto questo è celebrare la grandezza di Funky Mitsugi, detto MTJ, il designer di Bubble Bobble, che è morto. È morto nel 2008. Stavo anche facendo cadere la telecana. È morto nel 2008, ma è immane, immemore, immanente dentro di noi, per sempre. BOWEL TROUBLE si traduce cacalessi. Questo è un tipo di... è un triple joke che non avevo mai considerato, ma il gatto sicuramente sì. Quindi FOLLOWATE il gatto. Cioè, voi già lo FOLLOWATE, abito che siete arrivati. Ma voi che non lo salvate FOLLOWATELO, FOLLOWATELO. Perché lui è il gatto, ma è soprattutto Cazzalessi. Mario Brossi. Allora, Mario Brossi. Sto facendo una lezione universitaria sul game design del mio tante, in particolare come si è arrivati a Bubble Bobble. A BOWEL Bobble. David Bobble. Sto rompendo tutto. Vieni qua, mettiti bene. Ecco. Tac. Guarda che la professionalità delle finestre è sovrapposta a mare. BOWEL Bobble deve tantissimo a Mario Bross. Perché? Perché Mario Bross ha, di nuovo, la stessa meccanica in due tempi. Che... Ti spiega il gioco all'inizio, addirittura, per essere sicuro che non sei un cretino. Quindi riesci a capire. Quindi, di nuovo si può giocare in due. Quindi potrei attivare anche Luigi e giocare in due. E devo sempre colpire le freaking tartarughe da sotto e poi andarle a sconfiggere. Ma c'è di più. Se io muoio, muoio. E questo non è di più. Questa è una cosa... Effettivamente è una grande verità dei videogiochi. Se muoio, muoio. Se non muoio vuol dire che non sono morto. Visto? È semplice. Se muoio, muoio. Se non muoio vuol dire che non sono morto. E come in Bubble Bob, ma in maniera molto meno elegante, se io riesco a tirar giù più nemici in un'unica streak, faccio la Coco Combo. Che è molto importante per i videogiochi in cui lo scoring system è fondamentale. Quindi se adesso io faccio così, vado qua e sono molto, molto, molto veloce, e riesco a colpire le due e non riesco, avrei fatto tanti puntini. Se becco tanti gettoni contemporaneamente non succede niente. Questo è un altro discorso. Comunque, vedete anche un codice cromatico molto chiaro. Una morte molto esemplificativa, ma non è facile giocare davanti a un miliardo di persone. Quindi, abbiamo capito che questo è Mario Bros. E questa è la morte. E questa è la loro descrizione della mia morte. Bene, torniamo ai nostri lucidi universitari, perché questa è una cosa seria. Ho sbagliato, ho schiacciato una cosa che non c'entrava. Grazie a tutti quelli che stanno cominciando a seguire il canale, inspiegabilmente. Dicevamo Mario Bros. Per chi si fosse sintonizzato solamente in questo momento, quello che noi stiamo facendo qui è cultura. Perché stiamo spiegando perché Bubble Bobble è un grandissimo gioco. E per farlo, con l'immagine di Fukio-Mitsuji, e giustamente Stetsuya comincia a seguire il canale, in questo momento, sulla bellissima immagine di Fukio-Mitsuji, che come qualcuno ha notato precedentemente, dietro ha degli schizzi a gesso, si può schizzare a gesso? No, non si può schizzare a gesso. Gessare a schizzo degli arcobaleni di Rainbow Islands. Perché costui è anche, oltre che il designer di Bubble Bobble, il designer di Rainbow Islands. E anche di Magical Puzzle Poppies, che Dio giocheremo dopo. Assolutamente. Molto bello perché, io non so perché, immaginavo che tua sorella fosse la sorella minore, quindi quando di colpo mi hai detto che eri sulle ginocchia di tua sorella, pensavo tu che schiacci la tua povera sorella. Invece perché no, è la sorella maggiore. Quindi va benissimo. Quindi va benissimo. Quindi, Bubble Bobble, The Game Design Bliss. E tra l'altro ti posso dire che la versione per PC e MS-DOS aveva una grande scritta by John Butrovich, in basso a destra. Quindi è importante questa cosa. John Butrovich, un errore, ma hai cantato abbastanza perché ha portato la conoscenza di Bubble Bobble ai PCisti. Fa ridere, ma in realtà Bubble Bobble è molto più conosciuto nel mondo per la conversione NES, Famicom, che dire si voglia. Quindi è chiaro, insomma, che è così. Qui dicevamo, Joost e Mario Bros sono i passaggi per arrivare a Bubble Bobble. E now, e now si arriva a Bubble Bobble. Grazie a Ilbon Star Z, tra un po', tra l'altro, apriremo il cofano della sala giochi di Bubble Bobble per capire dentro i dati che cosa c'è. Lo faremo con un tool specifico che è quello che ho usato per fare la mia versione di Bubble Bobble tantissimo tempo fa, insieme al grandissimo Aladar, che magari è in chat e sta nurcando. Gli ho scritto prima e ho detto, all'improvviso, guarda, se vuoi, passa. Allora, innanzitutto, Bubble Bobble è una caratteristica mostruosa per il 1986, cioè la quantità. Bubble Bobble colpisce, schianta i giocatori con una quantità di dati. Questa slide l'ho presa violentemente da come si chiama? State giù, dove c'è una bellissima guida di una bellissima guida di grazie, tanto abbonamenti che fiocano scusate, non li sto dicendo tutti, Marco Alfarano ringrazio tutti quanti, scusatemi, sono un po' solo ma sono con voi, questo mi sconcerta. Quindi Bubble Bobble non ha più, come in Pac-Man, questo bonus vale questo, questo vale questo, si ce l'ha, ma lo espande in una maniera mostruosa. Cioè, in effetti, da un punto di vista del punteggio, sapere che il Green Pepper vale 10 e l'Eggplant vale 20 non mi fa una grande differenza. Soprattutto quando esistono bonus da 100.000 punti, il punteggio più alto che può dare un bonus singolo di Bubble Bobble. Quindi è una roba veramente violentissima. E tra l'altro Zambani dice che ha ancora la mia cartuccia di Poppins, se ne ricordo, certo, ma sarà il momento in cui tu me la consegnerai con le tue mani, perché la voglio viva, la voglio ancora viva questa cartuccia, sarà bellissima. Quindi sì, lo ringrazio veramente tutti per i follow, per gli abbonamenti, sono emozionato, soprattutto perché succede mentre stiamo parlando di un grandissimo personaggio che è Fukio Mitsushi. Quindi ti colpisce e ti stordisce con una quantità enorme di punti, di cose. Non solo, ma vedete subito una cosa. Avete quelle condition. Vedete che ci sono dei punti e poi una condition. Cioè tutto quello che appare in Bubble Bobble è effettivamente determinato dalle azioni dei giocatori. Azioni attive o azioni passive. Possono essere azioni che hanno a che fare con le cose più disparate. Quanto si cammina su una piattaforma, quante volte si salta, quante volte si uccide un nemico in un certo modo, quante volte eccetera. Quindi tutto è determinato dal giocatore. Ovviamente riuscire a controllare tu come giocatore tutte queste variabili è quasi impossibile. Quindi tu hai la sensazione che le cose succedono un po' alla Katsus de Canis. Ma non è così, è come la Mentura Canis, come si dice. Quindi... Aosomo dice Bubble Bobble mi pare più un gioco a 16-bit perché ha l'audio FM. Poi ho visto un altro gioco che gira su stesso hardware che ha una grafica da paura per essere dell'86 che è Scramble Formation, giusto? Tokyo. Assolutamente. Bubble Bobble usa molto del suo potere. Però è un gioco a 8-bit. Quindi, quantità, quantità, altri bonus, altre condizioni. Tipicamente questi bonus di punti appaiono sulla base del tempo che ci si mette per finire un livello. Se io finisco un livello in 13 secondi ottengo il cocktail. Ok. Se io finisco un livello in tipo pochissimo tempo... Ancora cose fatte. E più, ancora più roba, più roba, più roba, tantissima roba. Ci sono altri, non entro nel merito perché sono veramente infiniti. Quindi è una cosa veramente enorme. Tra i vari bonus che si possono prendere c'è lo Sharp MZ80 che vedete in fondo della colonna. c'è Chuck and Pop e questo è un altro grande tema di Bubble Bobble. Il fatto di citare anche altri giochi della grande cosmogonia di Taito. Quindi questa specie di cross-reference, di riferimenti incrociati tra Bubble Bobble e altri giochi. Questo è un grande classico che poi si ha esploso tantissimo. Già lo faceva Namco, ovviamente, con Pac-Man e compagnia giocante. E soprattutto c'è la birra che, come sapete, fa schiuma ma non è un sapone. Era così. Si beve ma non è un sapone. E poi ci sono un sacco di gustosi bonus giapponesi. Per esempio da qualche parte ci sono tutti i tipi di sushi. Vedete che c'è il Ebi Sushi, il Sak Sushi e anche il Maguro Sushi. Se vi eravate chiesti cosa fossero quegli attrangolini, era sushi. Con il riso sotto. Golosso. E poi si va avanti. Power-ups. Power-ups è anche qua. Come vedete i power-ups sembrano un po' così. Tipo che hanno un bellissimo effetto. Da quello che ti fa fare 5.000 punti ogni volta che salti. A quello che ogni bolla che lanci ti fa fare 100 punti. E avanti così. E anche qua, in realtà, se noi espandiamo le informazioni che abbiamo a disposizione. Quindi se andiamo a guardare un po' di più in dettaglio. Come ho fatto qua. Ce ne sarebbero tre pagine. Probabilmente mi sono contenuto. In realtà me l'avevo fatta. Non ricordo però. A un certo punto. Esatto. Eccoli qua. Vediamo esattamente come i power-up sono spawnati. Quindi vengono fatti apparire al giocatore. tramite delle condizioni precise. Quindi voi pensavate che la scarpetta arrivasse un po' dopo che avete cominciato la partita di Bubble Bobble. Ma non è così. La scarpetta appare esattamente quando avete percorso la lunghezza in orizzontale dello schermo 15 volte. Se voi lo fate senza sparare una bolla morite perché dovete finire lo schermo. Ma se appare la scarpetta. Oppure la bomba. La bomba appare quando avete, a seconda del livello di difficoltà a cui è settato il gioco, fatto scoppiare 10, 13, 16, 19 bolle di fuoco. La re-up appare tante volte. Il gioco cerca di aiutarvi facendo apparire una campanellina che lampeggia qualora ci sia un oggetto speciale. Quindi non solo punti ma un power-up che appare sullo schermo. E così via. Quindi una roba veramente perversa. Fino ad arrivare alle cose incredibili come le famose porte segrete che appaiono. Per esempio la porta del livello 50 appare solo se avete raggiunto il cinquantesimo livello senza mai morire. Però vi fa warpare avanti di venti schermi che è anche una porcheria. Intanto un saluto a Fabio Caglioli Bortolotti che è in chat. Perché non è qui con me Fabio Caglioli Bortolotti? Perché sta lavorando. Sta lavorando per voi. Sta lavorando non semplicemente come persona che fa Cheno Mattina e Twitch in generale. Ma sta impacchettando i calendari che hanno avuto un successo enorme. Voi sapete che abbiamo fatto dei calendari per beneficenza con Cheno Bisbo. Quando dico abbiamo intendo dire soprattutto lui con le incredibili fotografie di Retrobigini e Francesco Bici al layout grafico e sta impacchettando come un pazzo. Sta impacchettando letteralmente centinaia, centinaia, centinaia di calendari. E chiunque l'abbia preso sappiate che è stato un grande successo è molto 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 concreto in termini di beneficenza. Quindi grazie. Grazie mille. E qua si va avanti. Guarda chi c'è qua. Qua c'è Fukio Mitsugi. Qua c'è Fukio Mitsugi l'ultima intervista e forse anche l'unica in realtà intervista a Fukio Mitsugi che sia mai stata realizzata. Sicuramente non si sentirà. Forse sarebbe volume a bestia però è già molto alto il volume. Chissà perché. Fukio Mitsugi che spiega come è arrivato a creare Bubble Bob. secondo me non si sentiva una mazza perché. Tanto lui che parla. Ha deciso di tutto quello che ha imparato nella sua vita di metterlo in questo titolo. Voleva correre un gioco che fosse emozionante e esilarante. Scena di Tokyo da metà anni 2000. la bolla è un oggetto visualmente che va troppo veloce non riesco a tradurre. Ma ovviamente scoppiare bolle. L'atto di scoppiare bolle è di per sé divertente. E emozionante. Quando sei un bambino e scoppi le bolle di sapone. Pensi che il gameplay cooperativo abbia avuto un impatto importante nel successo del gioco? se dicesse di no sarebbe. C'erano altri giochi che avevano gameplay cooperativo. Mario Bros. Chiaust che abbiamo visto prima. Ma in questo gioco devi veramente giocare cooperativamente per riuscire a raggiungere il vero finale del gioco. Infatti comparandolo ad altri titoli il gameplay cooperativo ha un ruolo molto più cruciale. e come risultato molti giocatori erano sfidati dal gioco e si univano a un altro giocatore per riuscirci. Anche le coppie. Ragazzi, ragazze, fidanzati insomma. Giocavano insieme. Questa cosa lo riempiva di gioia. Che memoria hai nel realizzare questi giochi? Lavoravo letteralmente giorno e notte per ottenere un buon concept di gioco una buona meccanica di gioco. Ho lavorato anche nelle vacanze. Ho lavorato tutta la notte. E poi mi sono reso conto che la mia stanza era piena di carte su cui scrivevo idee quando mi svegliavo la mattina. Sentivo gli uccellini che cantavano la mattina. Come ti è venuto in mente di fare questi personaggi così carini? Siete che contento, eh? Eh, questa era una sfida. Allora non era facile, però anche di Rainbow Islands, vedere donne negli arcade in Giappone. Per una questione puramente culturale, ovviamente. quindi volevo che più coppie venissero a giocare. E ho creato dei personaggi carini e ho immesso il gameplay cooperativo all'interno di Bubble Bob. quindi questa è una parte della... delle interviste. Ci sono altre parti su... su... su eBay stavo dicendo, perché pensavo alla PCB di Bubble Bob. Però... questo è Fukumitsuji. Questo è il late Fukumitsuji, compianto e l'ultimo late anche in quel senso, perché in realtà da giovane era più cappellone. Assolutamente. Appare anche nel finale di Rainbow Islands, tra l'altro proprio lui come personaggio insieme a tutto il team di sviluppo. Quindi questo è quanto. Ora, cosa ha fatto Fukumitsuji per me? Beh, è stata una delle grandi ispirazioni che mi ha portato poi nella vita a diventare a un certo punto game designer, oltre che in generale a occuparmi di videogiochi in maniera violentissima, fin da quando ho potuto. Tra l'altro, visto che sono al mio computer, potrei quasi quasi... non lo vedete perché l'ho coperto amabilmente per non farvi vedere le cartelle piene di pornazzi, ma... che paccionità! non farà neanche più ridere di avere cartelle piene di pornazzi, soprattutto in un mondo in cui esiste lo streaming, ma questo è un altro discorso. Ehm... Dicevamo... Ah sì, da qualche parte dovevo avere tutti i vari testi che facevo... dove potrebbero essere? Bello perdere completamente la roba. Avrò una cartella documenti? Sì. Testi. Vediamo, vediamo... una cartella qualsiasi di testi di Andrea Babic, scrittore. Quindi quando facevo il giornalista, appunto, questo è uno dei giochi che sicuramente mi ha spinto a fare... a occuparmi in maniera critica di videogiochi, perché il gioco che ha sviluppato il mio senso critico sul game design, Donkey Kong, Baraduke, quello che volete, sono tutti i giochi che, ovviamente, hanno avuto un grande impatto, ma era un impatto in qualche modo passivo di assorbimento inconscio. Bubble Bob, anche per l'età che avevo quando ci giocavo, è stata un po' la creazione del senso critico. Intanto, Ion Jack dice, domanda scomodamente, ma a che punto è il libro su MTJ? Il libro su MTJ ha bisogno di due cose. Una non ve la posso dire, perché è la grande sorpresa del libro, ed è una cosa, è un oggetto, quindi quello che dobbiamo pensarci, e l'altra è l'introduzione che devo scrivere io, quindi è colpa mia. Scusate. Abbiate pietà. Quindi, dicevamo, vediamo un po' cosa facevo, tipo dove dove, testi, no, non lo so, esiste una roba tipo università, curricula, blog, game design, scusate, IGN, colani 2, colani 2, wow, questa roba qua è super vecchia, lettere strane, cos'è lettere strane? Un po' paura, forse è meglio che non vediate questa cosa, effettivamente. Tesi, tesine, tesine, va bene, vediamo cosa sono le tesine, apriamo, apriamo, ah no, ma non posso aprire perché non ho, non ho, non posso aprire i doc, mi sono dimenticato questo dettaglio divertente, non ho, non ho Word su computer, ah, scusate, non ci ho pensato, no, effettivamente come posso fare, vediamo se c'è una roba che, che apre tipo i doc, apri con, scegli un'altra app, scusate, sto cercando di capire se posso aprire con qualcos'altro, non c'è una roba tipo WordPad, dai, WordPad, aprirai doc, vediamo un po', cosa facevo all'università negli anni 90? eh, lo so, LibreOffice, ma è un casino, beh no, non funziona molto bene, vi la faccio vedere così, anzi, prima cancello il nome della, della ragazza con cui l'ho fatta, perché sennò, fa brutto, ok, allora posso farvi vedere, eccolo qua, questo bellissimo, questo bellissimo, WordPad che apre male, una qualsiasi tesina dell'università di Andrea Babici, questa si intitolava per esempio, contaminazioni tra manga e videogioco, fa abbastanza ridere, la la la, contaminazioni tra manga e videogioco, niente, ve la guardate storta, Dragon Ball Z, di Andrea Babici, è la mia signora di allora, con varie, ma queste sono solo le dida probabilmente, sì, sono le dida, fabule, entreccio, profondità, contesto, questo era il doc delle note, scusate, quindi una serie di, una serie di informazioni, che non vedo sta roba da veramente vent'anni e più, quindi, no, tutto il robot, che belli, questi, questi gliccioni micidiari, perché sto prendendo un doc con una, una roba sbagliata, bellissimo, fantastico cazzo, veramente, quanti ricordi, quanti ricordi che sta roba che non riesco a leggere, perché è criptata, ah, i ricordi, in effetti sembra warpad, è warpad, chissà se invece notepad plus plus funziona meglio, non salvare, generi videoludici arcade, mmm, cos'è generi videoludici, ah questa è questa cosa qua, allora, VG, proviamo appena questo, perché è associato a Caliber, piuttosto, proviamo con notepad, no, notepad non gli piace tanto, che pale, che pale, cioè non si vede niente, allora, un update package is available, do you want to download it, no, che è sta roba, l'ho provato ad aprire con, bello, quanto è rotto, è veramente glitchatissimo, questa è invece una, no dai, adesso questa cosa la voglio vedere, scusate, una tesina sui generi videoludici, fatta in Microsoft Word 6, dai, scusate un attimo, adesso vi secca, so che stiamo, stiamo un attimo così andando oltre, ma, sono tentatissimo, come posso fare, se la trascino dentro, una pagina tipo, qua, secondo me, lui capisce che devo, no, forse non capisce, va bene, lo facciamo poi un'altra volta, eh, e infatti Google document su, su Drive, si infatti, è una roba, bravi, bell'idea, eh, sapete, eh, vediamo, provo, provo segretamente, Google Docs, VG Doc, schianto dentro, non funziona, che parlo, non posso messo a me di passare, sto veramente facendo questo, ma perché? dovevo mostrarvi tutto altro, che ora è? 22.10 sto buttando via la vostra vita, oltre che la mia, upload, che scocciatura, sono curioso, adesso, curioso, mi sono auto incuriosito, ho scoperto che i vari, siamo entrambi laureati in scienze della comunicazione, sì, c'è, sto scoprendo anch'io, che anche tu sei lavorato, ah, eccola qua, tieni, VG Google Docs, no, aspetta, cosa fai, ma cazzo, cosa fai? mi niente, mi sei incasinato tutto, vabbè, guarda che pomposità micidiale, eh, proprio la pomposità, il mondo dei videogiochi, da adesso in avanti, VG, è stato, fino ad ora, analizzato, abbastanza, poco e generalmente, in maniera superficiale, era il 98, cioè, quindi non era neanche così vero, tutto sommato, ci sono, il saggio che ci ha colpito di più positivi, che ci ha colpito più positivamente, quello di Fausto Colombo e Daniela Cardini, che io assolutamente non so cosa sia, ci ho rimosso completamente sta roba, si parla di Colombo e Cardini, va, poi la butterò su Disto, su, infatti, è del 97, addirittura, del 97, guarda che errorone, hache, ma come hache, posso correggere me stesso di 23 anni fa, ricercarle, un'analisi con lo spazio, guarda, che il letterato di Word, veramente, Dio Sanso, vabbè, perché con la C, ma no, che schifo, che vergogna, come ho fatto a prendere la lode, è una vergogna, veramente, quindi vai, 37 pagine, con citazioni, attenzione, una citazione di Kojima del 97, quindi penso prima dell'uscita di Metal Gear, stava lavorando a Metal Gear Solid, che viene definito da questo giovane Babich, remake, remake per PlayStation di un classico degli anni 80, vedete, io conoscevo molto bene quello prima, ma questo era assolutamente, era nuovissimo, quindi, bello però che lui pensate, diceva, per Metal Gear Solid non abbiamo usato nessuna tecnica convenzionale, come il motion capture, il motion capture ha di fatto causato una deleteria standardizzazione all'interno del software, ora tutti i personaggi si muovono allo stesso modo, 97, e poi vai, si va all'infinito, questa è una tesina sui generi videoludici, pensate, interessante il caso recente di F1 97, il caso recente, fa sempre impressione vedere, vedere sta roba, la battaglia contro i flipper, i videogame, la ricerca di un'anima, vabbè, ce l'avevo già voglia di scrivere, una roba, va bene, bravo, c'è bravo, bravo fino a certo punto, va bene, va bene, allora, dicevamo, perché siamo qua, ah sì, Fukio e Mitsushi, Fukio e Mitsushi, bubble bubble, bubble bubble lo scale, quindi a un certo punto, non con tesine, ma, questa la chiudiamo perché non si sa mai cosa c'è dentro le immagini, quindi, a un certo punto ho detto, ma perché non faccio un mio, eh, bubble bubble, no, e come si fa un bubble bubble, beh, esiste questo tool, che state vedendo qua, che si chiama, patch a bubble, patch a bubble, che ora farò partire, track, patch a bubble, guardatelo qua, dove si chiama abbastanza bene, ehm, quando troviamo, futa files, tutto a posto, hard disk, hdm, iso, ma vabbè, mi sembra che sia tutto abbastanza regolare, sì, direi una, una lista di cartelle assolutamente, legit, per, per me, sperando che non spunti luciano, no, no, sono stato, non è vero, non sono stato attentissimo, quindi devo sperare che non succeda niente di brutto, uh, quindi, come funziona bubble bubble? ok, voi state vedendo, in questo momento, forse un po' male, potrei, forse, zoomare questa roba un po' di più, distruggendo completamente tutto, secondo me sì, facciamolo, allora, facciamolo, schermo uno, se io lo zoom un po' da qua, che succede? se zoomala, guarda come se zoomala, un po' li metterò a posto, sarò un incubo, però non potevo, esimermi dal farlo, allora, questo è, e, futa files, sono i file di lavorazione di, di futa site, ovviamente, non è una cartella, sul futanari, non preoccupatevi, so che non ci credete mai così, potrei anche cliccarci sopra, ma non lo farò, allora, eh, patch a bubble, un vecchissimo editor, perché patch a bubble, pensate, è, tanto usa una specie di comic sans, già per questo deve morire, è del 97, quindi più o meno quando io scrivevo la mia tesina, di qui sopra, ehm, buonasera, buonasera, francesco bici, buonasera, arriva esattamente, si, è una specie di lunar magic, per smv, però un po' più sodomitico, nel senso che, è veramente doloroso, senza, le accurate, eh, precauzioni, da usare, innanzitutto ha un bug, questo programma, per cui non si può veramente fare, tutto quello che fa bubble bubble, perché ha un bug, sulla gestione, di alcuni personaggi, eh, di alcuni nemici, quindi è difficile istanziare, i, i super drunks, eh, quindi, eh, cosa state vedendo, state vedendo cosa c'è sotto il cofano di bubble bubble, quindi voi vedete che il livello 1 di bubble bubble, ha, ehm, tre nemici che sono uno sopra l'altro, in realtà, in questo momento ne vedete solo uno, ha un punto di spawn dei bonus di punti, e un punto di spawn dei bonus eh, power up, no? Quindi, eh, non solo, ma c'è questa matrice che è invisibile agli occhi del giocatore, la vedete, è una matrice di freccettine, che vanno in varie direzioni, che sono gli air flow del, ehm, gli air flow delle bolle, quindi dove le bolle devono andare, non è come in certe conversioni home, veramente agghiaccianti, in cui le bolle vanno tutte quante su per sempre, no, in bubble bubble in realtà, come sanno i giocatori di bubble bubble, ci sono dei punti, come per esempio nel primo livello, in cui le bolle, grazie appunto all'uso di questi air flow invisibili, eh, convergono al centro dello schermo in alto, quindi questa roba qua è abbastanza pazzesca, chi ha creato lo scave? Io ho creato lo scave, ciao, e adesso te lo dimostro, guarda, io posso fare load patch file, e caricare per esempio, lo scave 69, tadaaa, e in effetti ho appena caricato i data file, di, ehm, di, di bubble bubble lo scave, che è appunto una versione, eh, specifica, eh, con i 100 livelli, che Taito ha realizzato per, le conversioni home e handheld, di bubble bubble, ehm, che però, ehm, giravano sulle versioni home, quindi con un engine di gioco inferiore, al gioco da sala giochi, e abbiamo preso questi 100 livelli, io e Aladar, e Dio ve ne dica Aladar, perché mi ha dato tutto il supporto tecnico per fare questa cosa, e abbiamo preso questi 100 livelli di versioni home, e li abbiamo iniettati con questo tool, e altri tool creati apposta da Aladar, nella, ehm, versione da sala di, eh, bubble bubble. Quindi, quello che vedete è effettivamente, l'intero layout di, ehm, bubble bubble lo scave, come potete vedere sono livelli simili, ma diversi da quelli di sala giochi, perché? Perché? Cosa fa? Annalisa che sta giocando quel gatto, che è veramente impazzito. Ehm, quindi vedete appunto che sono, sono diversi, dove provengono dal Sega Master System, questo per esempio, penso sia del, del NES, questo viene dal Sega Master System, questo viene dal Game Boy Color, questo viene, non mi ricordo, penso dal Game Boy Color, questo viene dal, NES, questo viene dal NES, questo viene dal Game Boy Color, e anche, in realtà, si ritrova in bubble bubble 2, questo livello, se non mi sbaglio, ehm, questo dal Game Boy liscio, bianco e nero, NES, 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 no, questo non è NES, questo è, vabbè, adesso non facciamo il toto, il toto livelli. Ehm, Aladar in che mattina si può fare? Non lo so, Aladar è abbastanza riservato, quindi io rispetto la sua privacy, non, non lo so. Ehm, e non so dove li, adesso li potrei provare a cercarli, li vedi da KinoBizboch Edition. La cosa bella, però, che volevo mostrarvi, è che, se io adesso, prendo questa cosa qua, e, disegno, e scrivo, per esempio, Godot, male anche, scusate, Godot, aspettando, Godot, ok? Fa veramente schifo, sembra Godot, cioè quindi God of Topic, poi io, con un sistema di specchi e leve micidiali, perché in realtà, devo andare, e, eh, avevo fatto un sistema che adesso non mi ricordo più bene, però, secondo me, in ROM, c'è, Bubble Bobble, ma, Bubble Bobble, lo state vedendo, la versione di Patch a Bobble, usavo un ROM set precedente con un altro nameset, allora io avevo creato, sapidamente, rename for Patch a Bobble, un batch che trasforma le ROM nelle ROM compatibili con Patch a Bobble, quindi a questo punto io faccio qua, faccio save ROMs, vado in ROMs, salvo le ROMs, sì, sì, che me frega, bam, distrutto, benissimo, figata, cambio anche i colori, perché adesso lo voglio così, più violento, ancora, salviamo, 51, salva, benissimo, no, non sono ancora soddisfatto, voglio nemici più buffi, dove sono i nemici? non ci sono i nemici, non posso mettere, perché non posso mettere i nemici? chi lo sa, non mi ricordo, ah ecco, devo selezionare i nemici, ne metto uno qua, e uno qua, e poi questo invece lo cambio, e voglio metterci subito, uno dei questi, che lo metto qua, tac, così, pim pum pa, ehm, si non so, avete state vedendo le cartelle, che io non so nemmeno cosa sia, la struttura delle ROM, una serie di documenti, che mi ero fatto, micidiare, attenzione, tra l'altro, attenzione, questo, ahia, non clippatelo, perché ci sono tutti i codici, i power up original game, Super Bubble Bobble, di Lost Cave, che sono diversi, da quelli di Bubble Bobble, originale, quindi, se guardate la registrazione, avrete tutti i segreti, uuuuh, tutti i segreti di Bubble Bobble Lost Cave, mannaggia, vabbè, insomma, il gioco uscito 8 anni fa, può anche andare, quindi dicevamo, faccio questa cosa, save rom, un micro se l'avevo già fatto, le risalvo, poi vado di nuovo qua, sul mio sistema di batch, solo mitico, vado su rename back, li rinamo back, benissimo, li rinamo back, e a questo punto, se vado qua, e vado su MAME, e su MAME, vado su MAME UIFX32, per esempio, però chiudendo prima questo altro MAME che avevo aperto, perché sennò mi esplode tutto, potrebbe essere, potrebbe essere, che in tempo reale, si riesce a far giocare, si riesce, si riesce a giocare, si, ma a me, Bubble Bobble Lost Cave, tarocco, live da me, non ne sono sicurissimo, ma è possibile, ovviamente io prima ho fatto quel bellissimo zoomone, quindi ne sono rotto tutto, mannaggia, mannaggia, perché ho fatto zoomone, mannaggia, ma se faccio così, secondo me, vomitate, probabilmente, subito, scusate, sto facendo la roba proprio, aggressive, tipo, aggressive ward di Rustam proprio, che roba, mamma mia che schifo, scusate, però Fukumitsuji, mi rispetterebbe per il tentativo didattico, se non altro, perché Fukumitsuji, si ritirò poi dopo Bubble Bobble, Rainbow Islands e un paio di altri giochi, per fare, per fare, una scuola di game design, quindi questa è la grandezza, e come vedete, tra l'altro qui potete apprezzare i requisiti hardware di Bubble Bobble, 2 Z80 da 6 MHz, 1 Z80 da 3 MHz per la gestione, non lo so, di qualcosa, probabilmente di uno dei chip Yamaha, e poi anche, per non sbagliare, un 6801, cioè c'è di tutto dentro, credo che sembrano 16 bit, e... Bubble Bobble, Lost Cave, e Bubble Bobble, Lost Cave, se i tasti funzionassero, ma ovviamente non funzionano perché, non li ho mai, non li ho mai, setupati, mannaggia, sto bloccando tutto, e il setup che devo fare, il setup al volume, tanto per cambiare, Input General, vai, player 1 controls, scusate eh, vai, al volo come sempre, 2, sinistra, destra, poi mi serve button 1, button 2, 2, niente, non vuole, intanto dietro la spezzata, eh, dietro c'è quello, ecco vedete, è tutto vero, scusate ma tutta sta fatica, voglio mostrarvi solo questo, vedete che in tempo reale, in tempo reale, abbiamo, cioè quasi in tempo reale, comunque con una comodità superiore, la maggior parte degli engine moderni, quando fai giochi, sinceramente, si riesce, si riesce, si riesce a modificare, guardate che bel daruma, quel daruma, uno sprite che arriva dritto, dalla, versione, master system del gioco, ecco, quindi vedete che, in tempi, con tempi relativamente brevi, si può modificare, eh, il, il layout del livello, e godere, e godere tantissimo, quindi, però appunto, ci vuole una serie di altri, di altri tool, adesso non mi metto a giocare, la versione rotta, del, del bubble bubble, lo scale, ci vogliono altri tool, per riuscire a fare questa cosa, ehm, quindi dicevamo, comunque insomma, che vedete questo, qui è anche abbastanza illuminante, per capire, tutti quelli che sono i, eh, le variabili, su cui, che il gioco ci offre, no? Quindi, vedete che, quanto tempo restano imbollati i nemici, ehm, dopo quanto, non mi ricordo, se questo qua è questo qua, questo questo cos'è, non me lo ricordo, eh, questo è il, dopo quanto tempo arriva il barone Fonbuba, la velocità delle bolle, la velocità dei nemici, ehm, il rate di apparizione, con un calcolo che non mi ricordo, ma non è banale, eh, delle bolle speciali, come provate i livelli avanti, i livelli avanti li provavamo copiando, eh, il livello che ci interessava, per esempio il livello, 99, ehm, MTJ, MTJ, celebravamo infatti MTJ, come già aveva fatto in realtà la versione Famicom, perché questo è uno degli ultimi livelli, della versione Famicom. Quindi prendevamo questo livello, e lo copiavamo al, nel primo livello, all'inizio, poi quando facevamo il testing, invece no, tenevamo il livello dove era, e usavamo o il cheat code, ma non va bene, oppure facevamo delle session di gioco intere. Perché non va bene? Perché per quanto, voi vediate che ci sono dei valori qui, che testimoniano le statistiche di difficoltà del livello, non funziona così, Bobo Bobo è molto più complicato, a seconda di quanto bene giochi, queste variabili hanno dei modificatori, quindi le variabili numeriche cambiano. Se tu, eh, non muori mai, arrivi al livello 99, colpifero che stanno 5 secondi imbollate le bolle, le bolle praticamente scoppiano subito, i nemici fuoriescono. Perché questo? Perché il sistema denominato di ranking, o rank, nei giochi di essere giochi giapponesi, quindi un sistema che, non so neanche cosa nasca, direi che Xivius è uno dei primi giochi che l'ha usato in maniera magistrale, Star Force, e poi tutti i shooter, fino ai Danmaku, usano questo sistema di modifica in tempo reale della difficoltà sulla base di quanto bene performa il giocatore. È morto giovane, dice Inarte Chris. Eh sì, è morto Fukumi Suji, è morto giovane, perché è morto a 48 anni, mi sembra. È morto giovane, dei problemi, delle complicazioni, mi pare al... Kidney? Kidney? Sono i reni? Sì, penso di sì. Kidney failure, mi ricordo di aver venuto su YouTube col cuore in mano, con grande dolore. Tra l'altro si scoprì mesi dopo, una cosa che venne fuori mesi dopo, non arrivò su internet subito, perché era una persona molto riservata, una persona molto riservata. E anche la scuola di design che gestiva, in realtà poi finì con lui, perché la MTJ Designer School, non tanto tempo dopo il dominio Scadette, venne venduto a una ditta che fa cosmetici. se mi sbaglio, non so neanche se è attivo, sarebbe da comprare il dominio solo per. Quindi vedete che, comunque insomma, è un tool abbastanza sgargiolino, inoltre vedete che il tool di partenza, questo non l'ha fatto, l'ha fixato alcuni limiti del tool, senza neanche intervenire sul tool. Abbiamo contattato a un certo punto l'autore del tool, ma non ci aveva mai risposto, forse non ha letto, non ha letto questa cosa, però, però sì, tra l'altro poi abbiamo cambiato anche la grafica, quindi molti dei livelli non hanno veramente questi asset grafici, tra l'altro di design, questa cosa c'è uno smoothing che è completamente sbagliato, bello deve essere croccanti di sprite, non è che possono... Sì, è molto triste come cosa, molto triste anche perché in realtà non ha... cioè... non si sa niente, cioè questa storia della sua scuola di game design è una cosa abbastanza... cioè è rimasta in Giappone, non si sa, non è che se ne parlasse tanto, è una cosa abbastanza piccola, chiaramente il settore è un fomentato di videogiochi e conosceva di Bubble Bobble, diciamo questa è la scuola di game design fatta dall'autore di Bubble Bobble, e vado... però non c'è una legacy giappone, su queste cose alle volte sono veramente strani, cioè... sono forti con le tradizioni forti, ma... lasciano un po' scorrere alle volte delle cose minori, cioè non c'è qualcuno in Giappone che ha detto no, adesso dobbiamo celebrare la grandezza di Fukuyo Mitsuji, una cosa abbastanza... tanto che in realtà con l'intervista che abbiamo visto prima io credo abbastanza che fosse... io credo che Luigi fosse già malato, perché è stata fatta in corrispondenza con Taito Legends che erano delle collection uscite in Giappone anche in occidente, a cui hanno lavorato tra l'altro anche persone del MAME, però... era già molto, come avete visto, era molto molto magro, non era magro da giovane, insomma... la sensazione fosse che non stesse già bene, probabilmente. neanche la Taito non ha mai influenzato, non ha mai enfatizzato più di tanto il suo ruolo, è vero anche perché non credo che sia proprio lasciato nel migliorissimo dei modi con Taito, perché Taito voleva che lui facesse Bubble Bobble da quella fine del mondo ovviamente, mentre lui ha fatto Bubble Bobble, ha fatto Rainbow Islands e poi ha fatto un po' di conversioni, di Bubble Bobble e Rainbow Islands per vari sistemi, tra cui Mega Drive, ha curato livelli extra per Sharp X68000 del gioco, tra cui il famoso Cybubloon, quindi la versione tematizzata Cyvalion di Bubble Bobble, però in realtà gli ha detto sapete che c'è, fatevelo voi Bubble Bobble 3, non me ne frega niente, non si saprà mai vedere veramente cosa è successo, però Parasol Stars, quindi il primo Bubble Bobble 3, già non è suo, Bubble Bobble 2, Bubble Bobble Memories, quindi Bubble Bobble 3, non sono suoi, Bubble Bobble Part 2 per Game Boy, Bubble Bobble Part 2 per NES, non sono suoi, quindi lui si era già allontanato un po' da questa cosa, e lui aveva fatto invece, uno degli ultimi giochi che ha fatto, che hanno una fortissimo imprinting Bubble Bobblesco, era questo qui che adesso vado a cercare, penso che potremmo vederlo da qui, sì, quindi dall'altro Mame, perché io ho quattro Mame, quindi ogni tanto mi perdo, però Game Gear, infatti, bravissimo, l'avevo già preparato, ed era Magical Puzzle, Popils, andiamo a cercare, scusate, questo è il Mame super full, scusate anche impaginato col Q, perdonatemi, ehm, senti, ando sta, eccolo, no, questo è Magical Tauturutokun, mortacci tua, sarà sotto la P, oh, che difficile che è, potrei fare così, andare per description, e cercare sotto la M, e lo troverò sicuramente, Magical Puzzle Popils, eccolo qua, ah, in arte cristica c'è una cosa molto, molto bella, ha inscenato addirittura un funerale in onore di un personaggio stupendo, il Giappone, mi ha inventato come Rocky Joy e non ha celebrato un artista come Mitsuji, ma il fatto, il fatto veramente bizzarro, è che, ehm, sì, magari se lo rimpicciolisco un po', poi mi volete un po' più bene, no? com'è a livello, bello questo cyberpunk, e lo so, e c'è l'hype per cyberpunk, lo sento dentro fortissimo, qui l'audio dovreste sentirlo in tutto il suo fastidio che è inghiato, che palette, e guardate il personaggino, se non è veramente un personaggino di, ehm, alla Bubble Bobble, no? e praticamente il gioco è un puzzle game, come potete vedere, molto classico, c'è tanta gommosità, sì, un puzzle game di cui non mi ricordo assolutamente nulla, anzi adesso provo a farci una partita, incredibile che parte subito, quello sprite è una roba assolutamente incredibile, quindi, benissimo, io sono lui, no? sta giocando lui, comunque, non volevo il demo, volevo, ah scusami, vai, voglio giocare, sì, giocare, oh, ah, una bellissima principessa, che è caduta in amore, che è caduta in amore, con te, e tu, ti senti, e tu, anche tu sei caduto in amore, in amore, sei caduto amoroso con lei, tombé amoureux, avec elle, mer le, le diable, ah no, c'è le, le huizar, della forest, pop il, l'ha chiusa nel suo labirinto, ti prego salve, guarda lì, l'immortà, col pugno alzato, l'immortà, quanto fa taito sta roba però, si, e c'è tanto ghost and gobbins, anche, sentiamo la musichetta namco, ciao, cosa posso fare, posso saltare, no, posso spaccare questo, ciao, vieni mia principessa, ho sbagliato, va bene, eeeh, now break the standard record, ho fatto abbastanza cagare, quattordici step, guarda che contenti, bravi, button one shows hint, hint, does not break, grazie, arrivo mia principessa, vabbè, fin qua, no, no, idiota, scusami, scusami principessa, non trovo neanche il tasto per quittare, ho configurato i tasti male, quindi probabilmente, sono morto per overuso di, scusami, no, eh, non si può giocare così, dai, input is, dai, start, ma che uno, start lo mettiamo qua, eh, scusa eh, ciula, dai, era giusto, so proprio che non so giocare, va bene, grazie, ok, stavolta non sbaglierò, bravo, bravo Poppy, vieni mia dorata, mia odorata, ti aspetterò e ti prenderò un pugno, no, eh, su Tinkle Pit non ci sono state svolte, ma la mia sensazione è che, ci sia qualcosa di fishy sotto, e qualcuno si domandava, perché, perché effettivamente, ehm, non ci sia stata questa celebrazione di MTJ, ma perché in realtà, anzi adesso avete fatto venire voglia di provare Tinkle Pit, che non ci gioco da un miliardo di anni, però, perché, perché non c'è stata una celebrazione di MTJ in patria, ma perché in realtà ragazzi, la verità è che, eh, i giapponesi hanno capito che potevano celebrare, eh, i loro autori da pochissimo, cioè, gli facevano mettere i, gli facevano mettere i nomi finti nei credits, perché avevano paura che la concorrenza riportasse via le menti migliori, quindi tenevano segreti, eh, eh, a parte qualche caso raro, cioè, c'erano dei casi in cui, l'azienda decideva di puntare, su, eh, un particolare designer, allora sì, per esempio, Yvesu, Masanobuendo, il, il designer di Xivius, Namco da subito ha puntato su di lui, è uscito un romanzo scritto da lui con il prequel, no, di quello che, che succedeva in Xivius, eh, Miyamoto chiaramente è uno di questi, però per il resto, ragazzi, ci sono una quantità di persone che noi non sappiamo chi ha fatto cosa. Luigi Shinshizawa, l'autore di Wonder Boy, è assurdo alle, alle cronache, in senso buono, perché è stato, eh, incensato dagli occidentali, sono stati gli occidentali in molti casi, a scoprire e a dare importanza agli sviluppatori orientali, loro si, 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 si cautelavano, ma anche la scena delle musiciste, di Capcom, o anche tante di Konami, cioè una quantità di musiciste pazzesche, no, e tu dici, ah, che avanti giapponesi, ah, parità, musiciste, donne, no, il fatto è che era considerato un lavoro inferiore fare musicista dei videogiochi, bili 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 bili, ma va, va, per carità, quindi c'era un po' sta roba qui, eh, e adesso invece ovviamente questa cosa super celebrata, Tamayo Kawamoto, eh, ma anche, anche, Yoko Shimomura, cioè una quantità di musiciste pazzesche, che solo adesso vengono celebrate, grazie a Red Bull che fa il documentario Digging the Cards sulla musica dei videogiochi, e poi fai parlare, sì, Major Lazer, fai parlare alla gente americana che dice, ma questo è Dio, la prima volta che ho sentito una musica di Contra non capivo niente, cioè hai bisogno di un filtro, e il giapponese ancora di più, eh, Koshiro era uno che insisteva, cioè, c'era chi rompeva le balle e chi no, capito, quindi, eh, allora sì, era vero anche per l'Atari, era vero anche per, per, per certi sviluppatori occidentali, anche perché considerate che perfino, portava via memoria su una cartuccia dell'Atari, scrivere un nome per intero, quindi, eh, Digging in the Cards, scarravanando nelle cartucce, però ovviamente è un gioco di parole. Per ora vedere Tinkle Pete, allora la storia di Tinkle Pete, non so neanche se viene menzionata qua nell'History, è un gioco della Namco, uscito nel 94, con un sacco, un sacco, un sacco di cameo da parte della Namco, e, eh, tempo fa era venuto fuori che esiste in realtà all'interno del codice di gioco, il copyright di MTJ e Tengen, anzi quasi quasi, quasi quasi, vediamo se si riesce a trovare sta roba, ne sono sicurissimo, faccio la ricerca qua che metti che viene una vecchia chiave di ricerca, Futanari Tentacle Nonna, sarebbe sgradevole, quindi la faccio la ricerca su un altro schermo, ehm, Tinkle Pete, MTJ, e ci sono tutta una serie di informazioni, in merito, ehm, andiamo su sudondasu.net, che è uno dei miei siti preferiti, e andiamo a vedere, ok, quindi eccolo qua, sudondasu, tu ma Rebecca, sei chiuso qua, tu non allargarti fino al sudorale, fino al sudorale, quindi la quale 2015, e, ehm, sforzando, sforzando un pochino, con dei cheat del MAME, come vedete, erano state trovate tantissime robe, ehm, in messaggi segrete, se vi cercherete la roba, ma, soprattutto, oltre ad avere dei credits estesi, con un sacco di sborronate incredibili, ehm, innanzitutto ci sono anche una serie di, di tutti i nomi dei programmatori, in cui non figura MTJ, assolutamente, figura Perorincio Shunin, come visual, ma non figura MTJ, quindi abbiamo tutta la gente, che tra l'altro è in, estremamente, estremamente, ehm, dettagliati, io, I'm doing backgrounds in Nebulous Ray, so take a look, it builds my self confidence, imbucatissimi per trovare questi credits, veramente un inferno, però in più c'è questa cosa qui, c'è questa cosa qui, ehm, che ha mandato in scimmia la gente, cioè che segretamente, se mettete un word value, a questa coordinata, in codice esadecimale, ehm, apparirà un extra line, sul title screen, che ora vi ingrandirò, quindi, no, non volevo ingrandire così, voglio ingrandire, eccolo, mtj, barra, slash, tangen, ltd, 1993, ok, però questa linea di codice, questa linea qui, mtj, tangen, appare solamente, solamente, ehm, solamente barando, praticamente, ed è un mistero, perché nei credits, mtj non figura, però il copyright, mtj, tangen, è esattamente quello che abbiamo visto in Poplis prima, Poplis era un gioco che è stato prodotto, prodotto, ehm, da Tengen, quindi in realtà, una, una ditta, praticamente, una, una specie di spin off di Atari, no? Tanto Tengen è un nome che, vabbè, cercatevelo. Quindi, era un po', un po' bizzarra, ehm, non si capite in effetti che cosa, che cosa, che cosa significhi, però appunto, come dice giustamente qua, la cosa, mtj, Fukio Mitsugi, creatore di Bubble Bobble, che ha anche lavorato per Tengen, quindi non è chiaro che ruolo abbia avuto in Tinkle Pit, in quanto non appare veramente nei credit, nei full credit, anche se, eh, riguardo questa pagina, non è la prima volta che Fukio Mitsugi, non riceve credito per quello che fa, quindi adesso ne cliccheremo qua e finiremo sul porno. No, invece troviamo una pagina del Game Design Research Institute, con la quale ho avuto piacere tantissimi anni fa di collaborare, eh, e ci ricorda infatti, questa era una, mh, un anno dopo quasi la morte di Fukio Mitsugi, c'è questo omaggio, fatto dal Game Research Design Institute. Allora, qui citano un po' di giochi che ha fatto, lui ha fatto veramente tanta roba, ha lavorato perfino alla versione, ehm, di Star Trader per Sharp G68000, prodotta dalla MNM Software, chiunque siano, e poi, insomma, ci sono altri giochi, ehm, qua vabbè, vedete com'è, com'è drammatica l'obsolescenza di internet, dei link che muoiono, quindi diventa sempre difficile. Buonasera Gelo Caffori, buonasera, 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 buonasera con tutta la colpa del mondo, per come questo 2020 ha mandato i miei tentativi di scrivere una bella presentazione per il nostro libro in maniera decente. Io ti chiedo pubblicamente scusa, veramente, ehm, sono senza parole, ho già chiesto scusa prima ai potenziali lettori che ci aspettano, arriverà, e, arriverà, ed è una cosa molto bella. Quindi sappiate che noi stiamo ancora, abbiamo nel nostro cuore, ardentemente, il desiderio di fare, questo omaggio a Fukumitsuji. Pagina, guardate che bella sfizia di video rotti e pagine non trovate, SIG SOB. Va bene, e quindi comunque siamo, ha fatto anche Riku Kaiku Sai Sen Sen, che poi è Storming Party, così così, quello là ci faccio una partita così defatigante, non sto giocando niente oggi, scusate, eh. Questo ovviamente è il gioco meno riuscito che io conosca di Fukumitsuji, però perché no, così, questo schermo verticale un po' rotto, così, oppure emulato un po' così. Storming Party. Quindi la risposta, la risposta a comando di Fukumitsuji. Anzi, in realtà è un po' la risposta, la risposta. Lo hanno costretto, lo hanno chiaramente costretto. Tira delle bombe velocissime. La musica è praticamente una specie di... Adesso lo prendo e stavolta non mi fregate. vai. Vai. Scusate. Musica di Isaoshi Ogura sotto falso nome, secondo me. E allora. Porca. Dai, dai. Non risperiamoci. Vai. Acqua bassa, acqua bassa. Bravissima. Quella tipica grafica, molto seriosa, molto seriosa di... di tight, no? Guardate che seriosità. Io rovino tutte le piastrelle col mio carro armato, comunque, eh. Cribio. Ma cribio? E allora sei proprio un fetenji. C'è uno in una carriola, tra l'altro. Ma che è? Scusate, eh. C'era uno chiaramente in una carriola che veniva portato in giro, non capisco perché. Ah, era il giocattolo, sembra. Eccolo lì, vedete che c'è uno in una carriola, scusate lì. Non c'è più. Ho ucciso quello in una carriola. Lumina grande come mezzi. Sì, è un gioco famoso per la sua mancanza di scala. Mentre invece è molto bello, il Fukumetsuji è Halley's Comet. Quello è un gioco molto interessante. Scusa, voglio andare a prendere l'elicottero perché sì. L'elicottero muore dopo un secondo perché sì. Beh, dai a cavo comunque. Il vecchio leone morde ancora. Oppure c'è un cheat di vulnerabilità che non sto capendo. No, che fai? Ma che senso ha sta roba? Vabbè, non si capisce. Il ponte però puoi anche andare a piedi, giustamente. Bravo, sali su. La soli di batteria senza senso. Beh, neanche Fujiko è Fujiko. Se neanche Fukumetsuji con la mano sinistra comunque si lascia giocare. E poi si lascia morire. E vabbè, è la vita sepolcrale di Fukumetsuji. Mi dispiace. Mi dispiace. Mi dispiace molto. Sono morto. Mentre invece Alice Comet è veramente un bellissimo gioco. Quello sì. Scusate, ho il momento videogiochi. Succede. Potrei fare un long run bubble bubble in solitaria. Triste. Così. Proprio. Ma nel senso che le Sharp X68000 ce l'avresti nei piani segreti della Gamebiz Bosch Productions? Assolutamente. Ti dico di più. Bellotta non lo sa, ma mi piacerebbe farla con lui in Mr. Perché sarebbe facile farla con gli emulatori che funzionano bene. Invece la vogliamo fare con il Mr. FPGA. C'è il corso Mr. ma non ce la fa. Certi giochi ce la fanno perfettamente, ma certi giochi ce la fanno totalmente non bene. Quindi non va bene. Cosa faccio in Obispo? Faccio una partita solitaria a Lost Cave o faccio una partita solitaria a Bubble Bobble? Potrei fare anche una partita solitaria a Lost Cave. Più che altro perché sì. Mi sembra doveroso. Così è il discepolo che ama il maestro. è più... Mashi. Un caro saluto. Lo so, ti devi alzare. Un grande abbraccio. So che sei uno che ci tiene. Quindi ti ringrazio di essere passato. E quindi sì, potrei effettivamente fare un po' di Lost Cave. Faccio una partita di Lost Cave perché c'è una... C'è una... Come si dice? Una... Una... Non riesco più a parlare. Adesso devo mettermi in silenzio e giocare a Bubble Bobble. Religiosamente in silenzio. C'è una... Un contest in atto. Eh... Vediamo se quello è giusto. Bubble Cave. Sì. Buono. C'è un... Un context. Un context. Nesco a parlare. Aiuto. Aiuto. Udino. Wow. Eccolo. Eccolo qua. Il vostro Scale. Avete voluto lo Scale. E' vero il gioco così. Con queste finestre tutte brutte dietro. No, guarda. Vi tolgo anche questa finestra. Perché sì. Basta. Basta finestre. Basta. Ci avete rotto le finestre. Così. Pulito. Cos'è sta roba? Vai via. Non ti voglio vedere. Ah. Ah. A filo. Come nelle migliori tradizioni ludiche. Beast Watch Loves. MTJ. Yes. Senza niente. Senza vasella. Intanto voi andate. Andate pure a dormire. Perché se io gioco a Bubble Bob. Lo Scale. C'è una sfida in corso sul nostro Discord. Vi invitiamo a partecipare. E quindi anche io voglio fare una partita. Liscia. Senza niente. Così come i factory setting impongono. Perché per quanto detto prima. Se voi fate una partita di Bubble Bobble. Dopo la vostra prima partita di Bubble Bobble. Troverete bonus. Di solito più remunerativi. Allo stesso modo. Se fate due partite. Tre partite. Esiste un bonus. Per chi non lo sapesse di Bubble Bobble. E quindi anche di Bubble Bobble. Lo Scale. Che appare. Dopo 777 livelli giocati. Quindi. Voi finite il vostro gioco. Gioca un altro. Gioca un altro. E verso sera. Quando viene giocato dall'accensione della macchina. Il 770 livello di gioco. 777 livello di gioco. 777. Lucky 7. Guardate il Game Boy. Quanto è caruccio. Appare. Finalmente. Appare. Non funziona la pausa. Quindi devo anche giocarlo senza pausa. Vabbè. Giusto. Cioè. Prendiamo un po' di speed run. Guardate. Se no. Finiamo più. I Game Boy. I Game Boy. I Game Boy. Sono stati messi in onore della versione. Game Boy del gioco. Che effettivamente. Ti faceva apparire dei Game Boy. Eh. Alla fine. Del primo livello. Tutti gli sprite che noi abbiamo messo. Non sono disegnati da noi. Che pessimo inizio. Non sono disegnati da noi. Ma sono. Derivanti. Da versione Game Boy. Master System. Game Boy Color. Eh. Famicom. E. Chi più ne ha. Più ne metta. Del gioco. Quindi. Anche i. I. Anche quei floppy. Quei floppy. E' della versione Master System. Lo vedete? Quei floppy. E' della versione Master System. Così. Ora lo sapete. Now you know. Bene. Devo prendere le E. Senza scoppiare le bolle. E lo farò. Dirindino. Ah. Che meraviglia. Sack. Questi sono i bonus che appaiono. Quando giocate col Game Boy. Quando giocate col Game Boy. Poi non vengono la banana. L'arancio. Eccetera. Vengono quei bonus là. Tutto storto però. Non si può giocare. Guardate questo. Sembra il quarto schema. Legit. Ma vedete che in realtà. Le buche sono messe dalle altre parti. Perché? Perché questa è la versione. Del. Mannaggia quella di me la perdo. Però mi sa. Questa è la versione del Game Boy. E' il quarto livello del Game Boy. Lissio. Dai forse no. Forse se la becco per prima. Riesco a non. Assieme a impegno. Faccio anche. Il pari. Vediamo. Si. Vedete cosa è successo qua? E' successo che. Avevo la penultima e la terza ultima cifra uguali. Quando ho finito il livello. Quindi tutte le bolle che ci sono nello schermo. Senza bisogno di integrare i bonus. Diventano. Io ho fatto un po' una cacchiata. Allora anche qua. Io adesso faccio una cosa. Perché. Ho bisogno di farla. Non so se ce la faccio. Ci provo. Non ce la faccio. Input General. User Interface. Dove la pausa? Qui. Metto la pausa. Sul tasto P. Ok. Ah. Ecco. Perché se no non riesco a spiegare. Ehm. Non riesco a spiegare niente. Ehm. Quindi. Adoro la versione Game Boy. Per quanto sia piuttosto presentita le flicker in primi dialoghi. E' stato fatto davvero il massimo per la console portatile. Assolutamente. Assolutamente. MTG ha praticamente inventato anche le emoji di Whatsapp. Cerchiamo di non fare stupilaggini. L'ho fatta. Molto bene. Sento profumo di Barone Fon Bubba. Eccolo lì. Si chiama Scale Monster. Non fatevi ingannare. E prendo il Popcorn. Perché nel quinto stage. 5, 10, 15, 20. In tutti i multipli di 5. Appaiono tutte le bolle al fine. Scoppiano. Regalando un bonus. Comunque. Comunque è sempre. Ma non ho preso la caramella arancione. Sono un po' citullo. La zucca è dal Master System. Master System è una persona veramente molto bella del gioco. Molto 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 ricca. Con più livelli. E bonus buffi. Insomma. Viva il Master System. Quindi adesso ho preso un bastone. Per ricevere un bonus. Bellissimo. Se non faccio cazzate così. Vabbè. Una super uva da 10.000 punti. Altro bonus del Master System. Ho preso anche qualcosa da Rainbow Islands. Alcuni. 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 Sprite. Sono presi da. Alti giochi title. Come Fairland Story. Non so se Fairland. Io ho aggiunto Ptolemy la straghetta. Eh. Prendendola per alto. Dalla versione. Master System. Dove appare. Uh. Del. 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 Del dolce. Che ho perso. Ma questa c'è la nostra caramella. C'è come di prendere caramelle. Babici. Se no. Andiamo. Una partita un po' del manga. Se posso dire. Però non è facile. Parlare. Contemporaneamente. E giocare. Ho snobato anche la scarpetta. Veramente. Ma perché non le ho prese. Mi sono distratto. Vabbè. Pagherò carissima questa cosa. Ok. Non facciamolo stupututututu. Forrei quitta subito. Mannoggio. Guarda che mi danno la scala. Disperati mi danno. Perde subito la vita. La partita un po' così. La partita un po' cacao eh. Non si gioca così. Non si gioca così. Non si gioca così. Non si gioca così. No. Non si fa e non si fa. Ah. Schifezza. Bisogni sono che ne ho mai parlato la versione 360 di Bubble Bobble. No. E neanche. Neanche di quella. Neanche di quella. Ui che è praticamente uguale. Non le amo molto. Penso che mi hanno sbagliato completamente. Il bound. Le collisioni. Hanno sbagliato tutte le collisioni del gioco. Quindi è veramente fastidioso. Non c'è quel. Non c'è quel. Kissing. Non c'era quella. Funziona anche su Mr. FPGA. Braccio 99. Sì. Lo scape c'è su. Eh. FPGA. Con mio enorme piacere. Prima ancora che io. Lo facessi. Io gli ho consegnato il file. Eh. Per far funzionare Bubble Bobble. Lo scape. Ma la verità. È che loro l'avevano già fatto. Quindi mi ha fatto molto piacere. Perché. Perché sì. Però ho perso una vita. Questo mi dà molto fastidio. Perché non vedremo il ventesimo livello. Con. Con. Con Mitsushima. Ve lo mostrerò poi in immagine. Tanto muore lo stesso. Bravo. Andate. In chiappetta. Cioè. Nel senso. Andate. Infilarvi. Sgraditamente. In posti stupidi. Mi raccomando. Ma io vi faccio il Kissing. Vedete. Questa è la differenza di Bubble Bobble. I bei Bubble Bobble. Hanno il Kissing fatto bene. E. Nessuna versione Bubble Bobble. Come l'engine. Ha questa cosa del Kissing. Il Kissing è quando praticamente. Sei aderente al nemico. Quando rimbogli. Lo fai scoppiare. Automaticamente. Dove trovi. Lo escape. Per FPGA. Se scarichi Bubble Bobble. Hai anche lo escape. Se con i vari. Se con i vari scriptini. Scarichi. Bubble Bobble. Nell'alternatives. Trovi anche Bubble Bobble. Lo escape. Easy. Il Kissing. E tra l'altro. Non è neanche una perversione sessuale. A differenza del cambio. Consonantico. In picche. Invece si. Però. Vedete che già le bolle. cominciano ad essere. Infastidite. Ma perché il livello 10. Anche in sala giochi. È sempre stato un po'. Un po' con le bolle. Che sono fastidiosi. Ma ho già perso una vita. La partita è un po' così. Tanto per. Tanto per gradire. Tanto per salutare. Fuku Mitsugi. Anche quest'anno. Avrei dovuto giocare di più. Avrei dovuto giocare. Ales Comet. Invece di Storming Party. Che può far sembrare che non sa fare i giochi. Dammi. 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 Lecca lecca. Belli questi lecca lecca. Master System. Però in alcuni casi. Abbiamo ritoccato leggermente la grafica. Per renderli un po' più arcade. Ho pensato. Il lecca lecca dei Master System. Se fosse stato fatto su arcade. Come sarebbe stato? Ah. Non è ancora pubblico. Il core di Bubble Bob. Sai che non sapevo. Qua si possono fare 64.000 punti. Mi pare. Si. In la mia tega. Si possono fare 64.000 punti. Vabbè. Credo. Che è vergognona. L'autore che viene fatto succare. Del suo stesso. Suo per modo di dire. Innanzitutto. Perché. Presto. Questo è quello. Questo è l'anello. Che se cammini fai punti. Grazie. Cammino volentieri. Ah. Che bello camminare fuori punti. E' bello camminare in una valle verde di punti. Meno bello quando arriva il scale monster. Che appunto ricordiamo. E' stato chiamato da quei buon temponi dei traduttori. Vabbè. Scendo. 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 Grazie. Grazie. Grazie videogiochi e sofà. Oggi sono in versione più che pianistica. In versione gioco. Il hack. Hack di. Ha. Hack di Bubble Bobble. Che io stesso ho creato. Questo. Questo grado finale di Ego Trip. Ma tutto questo. E' per una buona causa. Che è quella di. Celebrare. Fukio. Mitsushi. Ho preso la scarpetta. Scarpetta. E' un'arma a doppio taglio. A me non piace molto la scarpetta. Secondo me. Non è da proprio la mia scarpetta. E' molto risky. Perchè diventi veloce. E soprattutto in caduta. A temporizzare le cadute con la scarpetta. E' veramente satanisce. Cribbio. L'ho appena detto. E' Ariap della Mengas. Andate a quel paese. Però non ho più la scarpetta. Quindi ho fatto bene. Dai. Puoi controllare perfino la direzione in cui vanno i flow d'acqua ragazzi. Questo è il Bubble Bobble. This is Bubble Bobble. E this is Sparta soprattutto. Se qua ciccio pasticcio si lascia il coraggio fatto imbollare. Spacco un po' di bolle. Tra un po' io vorrei avere una pozione. La pozione appare cadendo molte volte attraverso lo schermo. Quindi quando c'è un buco. Se voi vi buttate giù un sacco di volte. Appare la pozione nello schermo successivo. Attenzione. Questo è interessante. Vedete questo buco al centro. In sala giochi questo buco al centro non c'è. Mentre c'era in questo caso nella versione Game Boy Color di questo livello. Che è quella che ho usato. Quindi Aladar ha fatto un hack in assembly. Per aggiungere una serie di buchi diversi dai soliti buchi 2 standard. Della versione della sala giochi. Anche un livello del NES che non ha il pavimento. Che è un unico grande cannellone in cui chiede l'infinito. Non si poteva fare in sala giochi. E Aladar ha modificato il codice in assembly. Per riuscire a fare questa cosa. Scarax è arrivata la patch di Bubble Bobble for friends. Per chi aveva già acquistato il gioco. Io l'ho già acquistato quindi dovrò scaricarla. Per soffrire ancora un po' con quel gioco che non è proprio tra i miei preferiti della vita. Perdo il mio cookie bellissimo. E cerchiamo di fare un bel filotto di questi ragazzi. Un grande classico. Non ho più il focus sulla schermata. Se ce l'ho. Ce l'ho ma sto buttando tutte le bolle fuori. Quindi sono un churabaduras. Beh. Beh beh beh. Beh beh beh. Beh beh. Beh. Non me la miento. Una su cazio. E due su cazio? No. Ma io lo voglio usare. E oso. Che kissing vi ho fatto ragazzi. Che kissing ho fatto. Un po' culo. Oh. Chissiamo questo subito perché mi sta sulle scatolette. Vediamo dove appariranno i bonuses. Ah. Si parla di cose belle qua. Uh. Uh. Buono. Mi piace. Avevo messo questo livello qua proprio perché statisticamente era abbastanza probabile che il giocatore si ritrovasse in questo livello ad avere la palla di fuoco. Pensate. Eh? Eh? Quindi l'ordine dei livelli ovviamente non rispecchia esattamente quelli, l'ordine che questi livelli avevano nelle versioni originali perché è impossibile. Sono prese da cinque diverse versioni home livelli quindi per forza di cosa ho dovuto fare un patchworkone. Sto giocando in maniera un po' lezzi ma d'altro canto non ci gioco da tantissimo tempo. Non prendo neanche l'ombrellino. Lo sfregio. No. Non lo prendo. O lo prendo. Lo prendo. Non lo prendo. Lo prendo. Lo prendo. Lo prendo. Ma si dai. Complichiamoci la vita. Ah. R.I. Rainbow Islands. Perché la versione Master System è stata fatta dopo la versione di Barney. Morite malissimo. Non morite. Morite adesso. Un po' di più. Va bene. Vado prendere questa zuppa di miso buonissima. Ho fatto un bel filottone. Non si può dire di no. Ehi arcobaleri. Ehi. Belli eh. Infatti. Però sono ovviamente un omaggio a Rainbow Islands. Bella. Troppo tardi. Ci sono delle ragioni. Perché esce l'ombrellino? Ci sono delle ragioni di counter. Guardate di fragolone. Demoniaco. Che bello che è. Anche qua si può fare secondo me un puntigione. Se te la giochi bene. Ma non mi ricordo cosa devo fare. Quindi non lo farò. Wow. Vabbè. L'arte di scoppiare la bolla d'acqua e rimbalzare eh. Quello la mi sta un po' rompendo la Walleras. Quindi. Vai. Dai. Vabbè dai. Punti facili. Vai. Bravissimo. Ve lo dico da solo. E vinco una vita. Debolmente. Insomma. Punteggio ridicolo. Potete perdonarmi ma. Capite anche voi che. Non ci gioco veramente da tantissimo tempo. Non cedrà gli alternative del mister. Questa cosa è veramente buffa. Eh. La metterò su Discord. Cioè. Se avete Bubble Bob. Metto. Su Discord. La versione di. Strano comunque. O l'hanno tolto ma. Cioè. Ce l'ho. Io sono Patreon però. Forse quello. No. Cioè sono un patroni. Un patronimico di. Bene. Bravo. Bravo anche tu. Sto giocando un po' pico eh. Però. Perdonatemi. Perdonatemi ma. Così. For the pleasure of it. Un suplice. Ah ma ce ne sono due qua. Di Cicciuccelloni. A Ciccellone 1 ti faccio fuori qua. Così. L'ho sbagliato. Ciccellone 1. Potevo effettivamente farlo fuori così. E Ciccellone 2 me lo devo andare a prendere. Solo che adesso se vuoi. Non è Fonbubba lì. Gira Barone Fonbubba. Vieni da qua. Vieni da qua. Vieni da qua. Bravo. E adesso. Con grazia esasperata. Scendo. Viva qua. Ma io. Prendo le ocarine. E voi direte. Le ocarine di. Di. Legend of Zelda. Invece no. Invece no. Erano. Nella versione Master System. Le ocarine blu. C'erano già. Nella versione Master System. La. La più grande riduzione. Tra le conversazioni. E' sempre quella mica. Sono abbastanza d'accordo. Perché. Perché sì. Perché di nuovo. A tutti i bounding box. Dei personaggi. Rotti. Rotti. No. Ai bounding box. Rotti. Uh. 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 Il cuore matto. Il cuore matto. Il cuore matto. Però devo schivare un po' di nemici. E vai di cuore matto. Il cuore matto. Il cuore matto. Il cuore matto. Però per come. Per come è fatto questo livello. Strons. Questo lo colpirò così. Bene. Questo mi da comunque qualcosa. Mi da. Un diamante. Va bene. Va bene. Va bene. Un diamante. Molto bello. Questa. Questa roba è. Incredibile. Ma è la croce rovesciata. Cioè. Antichristus proprio. Così. Bobble Bobble Antichrist. Stack. Quanto ho? 440. Attenzione. Faccio il pari. Faccio il pari. Non faccio il pari. Perché ho sbollato una bolla in più. Vedete. Quando i punteggi sono così. Questo vale anche ovviamente in Bobble Bobble. Quando la penultima e terz'ultima cifra. Sono. Ehm. Sono uguali. Tutte le bolle che sono sullo schermo. In quel momento. Quando scoppiate l'ultimo nemico. Diventano. Ehm. Bonuses. Francesco Bicic. La versione Comodoro era piuttosto crocantella. Si era sbagliata. Ma quella Comodoro aveva un feeling diverso. Ma che nel suo. Funzionava. Pensate che lo schermo esiste addirittura per Dreamcast. Perché avevo fatto. Usando. D. D. C. Mame for all. Avevo fatto un giro su Dreamcast. Guarda. Così. Poi vi mostro la roba. Anzi guarda. Vi mostro la roba. Buffa. Tanto. Abbiamo il potere di farlo. Grazie alla. Interattività. Fortissima di questa sera. Ma se io vado qua. No. Vado qua. Via. Cos'era quella cosa di qua. Era uno super spoilerone. Che per fortuna non avete visto. Una roba musicale. Ma. Dovete aspettare ancora un po'. Dovete aspettare ancora un po'. Per fare. Per fare il dannatissimo. Bubble Bob. Lost Cave. C'è stato un bel lavoretto dietro. Soprattutto di documentazione. Come vedete. Ci siamo. Fatti. Tutto. Quello che volevamo ottenere. Tutti i livelli che volevamo ottenere. Ce li siamo fatti. Immagine per immagine. Confrontandoci. Gameboy Color. Tranquilli. Fatti anche questi. Tutti. Tutti quanti. Tutti. Tutti. Un'unica mappa esistente nel mondo. Completa dei livelli. Gameboy. Gameboy Color. Che è un gioco orribile. Per fortuna. I livelli erano buoni. Una volta messi nell'engine. Bubble Bob. L'arcade. E quel pazzo di Arad. L'aveva fatto. Un sistema bellissimo. Guardate. Praticamente. Al di là della razza. Che è un po' strana. L'aveva fatto. Questo sistema. Geniale. Praticamente. Aveva trovato. Un sistema. Per. Prendere i dati. Direttamente. Dal Gameboy Color. E. Trasformare i livelli. Per Patch Bob. Quindi. Si risparmiava. Un sacco di. Un sacco di tempo. E vedete. Ci sono livelli. Addirittura dei livelli segreti. Che effettivamente. Poi nel gioco. Non vengono usati. Tipo. Mi ricordo qua. Ci sono dei livelli. Che non sono stati usati. Nel gioco. E che ne abbiamo messo. In Bubble Bob. Quindi. Exotico. Era meglio la versione. Assolutamente. Kaiser 76. Sono d'accordissimo. La versione per Gameboy Classic. Era assolutamente più croccante. Di quella Gameboy Color. Che era tutta sbagliata. Con un sistema di timer. Di bivi. Basati su quanto veloce. Finivi il livello. Quindi che ti spingeva sostanzialmente. A speed rannare male il gioco. Veramente pessimo. E' sontuosa. Immagini NES con Metainfo. Ah sì. Questo è un altro editor. Di Bubble Bobble. Per NES. Quindi altra roba. Quello Master System. Totale. Assolutamente. Questo. Five Bubble Bobble. È una roba infinite. Infatti. La quantità di livelli. 200 livelli. Con alcuni che cambiavano. Nel secondo giro. Nel secondo gruppo. Un po' la Ghost & Goblins. Ma proprio con livelli che non c'erano. Nel primo giro. Quindi una roba completamente delirante. Qui. Questo bellissimo livello esclusivo. Della versione. Della versione. Master System. Perché c'era Rustan. Su. Master System. Pezzo di nerd. Ti salutiamo. Assolutamente. La versione M6X2. Fu un Funk Metaller. Non era male. Non era assolutamente male. Ma io qua sto giocando ragazzi. Quindi scusatemi. Finisco la partita. Insomma. Non ho neanche la signora niente. Non ho più amici. Non ho più fan. Però c'è un melone verde. Quello. Quello lo gradirei. Quello lo gradirei. Quindi adesso vado. Però c'è la pozione. Quindi il melone verde te lo puoi anche anzippare in quel posto. E andiamo piuttosto. Cerchiamo di andare. Cerchiamo. Disperatamente. Ma ho fatto andare. Ma ce la fa. Solo che non ce la farà prendere tutto. Marraggia. Scusate. E lagone. E lagone. E lagone. E lagone agonistico. No. Grave errore. No. 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 Non fare così. Stupidinen. Malerano. 50 mila punti della tristezza. Ovvio. De la tristezza. Potevo farlo mille volte su livello. le ampolle di escape sono difficilissime e dipende dove accapita perché tra l'altro ecco questa è poche cose fatte a rantare dal gioco il posizionamento dei bonus quando prendete l'ampolla o pozione come si chiamava dalle mie parti la pozione non è fatto a mano cioè non c'è uno che a manella ha deciso dove mettere i bonus ma è fatto semplicemente prendendo tutti gli spazi vuoti utili per farci stare un bonus quindi fetenji questo è il tipico livello in cui puoi fare se ti impegni un po' un sacco di punti però c'è veri che basta ti danno quella così tu non hai voglia di fare i punti ma se tu resisti alla temptation di quella fai 16.000 perché sei stronzo e poi raccogli degli MSX2 probabilmente c'è anche un calice di vino ma io preferisco il gelato questo è simile a un livello di bubble bubble ma molto più difficile per via del modo in cui i nemici cadono e ti riempiono di legnate chiamarsela sempre fondamentale e chiamarsela maledetto maledetto adesso escono pure mannaggia 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 vogliamo andare su ma come ho fatto sto sti flow purtroppo erano così non è che li ho fatti io li ha fatti i buon fucchio questo qua c'era il flow dell'originale però è la versione gameboy del livello la versione cpc è un incubo ma non è stata fatta una molti anni fa nuova insomma dieci anni fa tipo molto bella ho questo livello strunz una x no eh la metatemi una x dai me la merito si 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 anche questo livello qua è difficile bisogna andare su da giù giù da su si 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 bene 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 con cosa stai giocando? sto giocando con l'arcade stick piccolo banale ma sempre buona sempre buona ori fighting stick mini oh questo è anche bello perché qua puoi fare easy se ti sbatti un attimo super easy ti fai se non fai cazzate disumane se non fai cazzate disumane ti fai super easy i 64 mila punti ovviamente ho fatto cazzate disumane però ho preso la caramella no niente guarda il pupazzetto di neve che carino però comunque insomma so punti chi è i k vedete chi è i k ma io ve lo posso dire chi è i k perché io zitto zitto qui lo scave wordpress ho fatto una guida ho fatto la guida che poi si è esaurita ad un certo punto ma ho fatto questa guida pazzesca dei primi 30 livelli ho anche i dati per fare tutti gli altri livelli ma poi non ho mai più avuto voglia yuichiro kavamuki was here chi è yuichiro kavamuki yuichiro kavamuki qua vedete che sul sito lo scave wordpress.com ho spiegato tutto praticamente chi è yuichiro kavamuki e chi è lo scritto è uno dei programmatori della versione NES bellissimo bravo quindi sappiate che sullo scave avete anche la guida dei primi 30 schermi a questo punto andiamo a vederci rapidamente che cosa c'è a livello 20 che è molto importante perché è lo schermo più importante grazie wordpress puoi ingrandire? no lo ingrandisco io quindi per chi non lo sa ancora questi messaggi sono dei messaggi cifrati quindi potete tranquillamente prendere questo screenshot e capire che cosa vuol dire quel messaggio se non lo sapete già però quello è un MTJ fatto in pixel art amabilmente da me sputando sangue e perché non è che sto tutto il giorno a fare pixel art quindi fare cose bene è difficile ma sono abbastanza soddisfatto tutto sommato a parte la linea della guancia che forse potrebbe essere arrotondata un pochino di più però è MTJ MTJ che ci lascia un messaggio cifrato e torniamo a finire questa partita perché manca poco e non nel senso buono manca poco perché sto per schiattare sostanzialmente però prima mi prendo un bel trombone mi prenderei un bel trombone se me lo facessero prendere bene così facciamo uscire questi maledetti mi sa che questo stage sarà la mia tomba Kissing Kissing the pink no ti è fastidio però scusa faccio un Kissing e poi mi chi after un inchiappetta in stupology ho spito che però forse questo tratto sono morto nel momento in cui è avvenuto larvi appo quindi se fate caso lì devi 1994 andare andrei 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 verso la musica si inchioppa dei rimaste in fan metal in realtà alde discontin é stato convertito per fami con disk system e per in versioni leggermente diverse ma guardatele perché sono molto sfiziosa grazie a Drux84 che si è abbonato mentre io mi ritrovo nel teschio Spaffentos un po' paura qui però c'è quel pesce quel pesce buono giapponese, chissà non chissà se non chissà vado così allora come ti ho chissato ho anche raccolto una patata guarda che queste patate dolci o sono dei topinambu non lo so, però invece di saltare Katsuya, ha la mente di Katsuya ma tutto il resto fa da sé non conosce la pauia nel saldolore del bignetto che bello quanto va lento il gioco quando non hai le caramelle bello questo, questo l'ho messo io per dar fastidio funziona chissò tutti mi sto perdendo un super è per andare a prendere il bastone e finisce la partita come un imbecille sapete che se scrivete AND avete dei fantastici bonus bene sì infatti farò un suono particolare no vabbè dai è andato un po' così e quindi esatto esattamente sono molto carini ah bubble bubble escape vi mostro ancora questa cosa prima di salutarci e cioè che come lo sapete se mettete dei nomi speciali segreti all'interno della classifica trovi AND cioè Andrea alla fine nel primo livello avrete dei bonus segreti oh yes quindi adesso vediamo mi ricordo come devo aspettare che appaia un bonus che non è la pizza la pizza è il bonus è il bonus quello ma un altro bonus attenzione da quale gioco queste sono le uniche gli unici sprite non taito che ci siamo permessi di inserire nel gioco io e aladar scusate stavo per rivelare altri nomi solo nel primo livello no non è digdag Osomo non è digdag no non è digdag sono morto apposta certo sono morto apposta per mostrarvi questa cosa non è digdag bravissima Osomo è rock and rope c'è anche digdag c'è anche digdag ma c'è un altro bonus praticamente c'è una simmetria tra digdag e rock and rope su cui abbiamo giocato io e aladar con il suo invece nickname quindi io ho dei bonus legati a rock and rope lui ha dei bonus legati a digdag quindi complimenti quindi prendi digdag e prendendo digdag ovviamente scusate prendi rock and rope e quindi prendendo rock and rope appare effettivamente il personaggio il protagonista di rock and rope sapido che non ti regala una vita purtroppo ma ti regala il fatto che hai preso rock and rope pensavo prezzemolo di garda quindi vi saluto così sul livello 2 di bubble bob anzi di bubble bob lo scave insert coin to join come sapete è un gioco che per essere finito al 100% deve essere fatto in due deve essere giocato in due è un gioco cooperativo ma oggi l'ho giocato così perché Fabio per una buona causa quindi assolutamente giustificato sta impacchettando un pazzo dei dei calendari no ama 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 rock and rope assolutamente furiola ne hai ben donde perché è un gioco eccezionale rock and rope ed è ovviamente di Tokuro Fujiwara l'autore di Ghost and Goblins questo spiega la cattiveria estrema di rock and rope che è anche l'autore di Pujan quindi siamo sempre siamo sempre lì sono contento che vi sia piaciuta la serata Fabio ha questo tono più dimesso rispetto del solito ma è bello ogni tanto che fa una serata en suples e Skalax 73 dice per me rock and rope da bambino il fine livello significava cosmo pavone è un'altra storia fino a un certo punto in realtà perché in entrambi i casi il riferimento è l'uccello mistico della mitologia delle mille e una notte rock e anche il cosmo pavone è assolutamente modellato sulla descrizione di rock non solo mi ci gioco quello che vuoi che Tokuro Fujiwara si è proprio ispirato alla quasi concominante serie di Calendar Man che è uscita in Giappone tipo tre anni prima o due anni prima non mi ricordo quindi quindi sì un misto un misto di un misto di gioia e melinconia i tributi a MTJ come sempre come giusto che sia come giusto che sia perché zombiamo 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 fukibisugi come se non ci fossero domani beh un po' meglio di così però scusa adesso qui sto rompendo la rappresentazione che magari poi potrà tornare utile in un altro momento però insomma scusa poi andarmi un attimo dietro poi lo mettiamo al posto ecco quindi fukibisugi che ci guarda con le sue carte in mano con un sorriso e con un appetitatura un po' quasi a little toy con quel basettoni e grazie grazie fukibisugi Mitsugi perché tu per quanto poi stiamo qua a frignare un po' una volta all'anno per te sei abbondantemente eterno per quello che hai fatto e per la gioia che hai dato che darai ai giocatori tanto 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 a lungo perché così come celebriamo i fratelli Lumière o Kubrick o i grandissimi di diverse epoche del cinema sicuramente ormai il tuo nome non andrà indimenticato quindi chapeau a te god bless you fukio assolutamente